Il segno dei pesci, ritornare al lavoro per voi non sarà facile in questa giornata in cui la luna transita vicino a Saturno in un punto delicato del vostro cielo però tutti questi pianeti nel segno del sagittario ci parlano anche di progetti progetti che tante volte vi spaventano ma che voi però dovete avere il coraggio anche di sposare amici dei pesci, possono riguardare la vostra vita personale, un progetto importante con il partner possono riguardare il lavoro, dovete rimboccarvi le maniche e anche se costerà fatica insomma certe scelte vanno fatte, certe decisioni vanno prese Termina così questo appuntamento